benvenuti amici degli spettatori di video a questa nuova giornata del trofeo jack oggi undicesima tornata di campionato si affrontano due squadre che sentono molto la competizione due squadre amiche ma oggi nemiche nel rettangolo di gioco oggi si affrontano roma tottenham grandi vincoli di amicizia tra i componenti in campo una gara che sarà sicuramente viva e che commenterà insieme a me giorgio lisio a sorpresa in cabina di regia insieme a me tardico esidoro giorgio lisio che ha dato l'addio ufficialmente proprio in queste ore alla guida tecnica della roma e come ogni mister dispessore che si rispetti nel trofeo jack si siede oggi alla mia destra per commentare quella che sarà la partita della sua ex squadra giorgio le prime dichiarazioni a caldo poi ti sentiremo anche nel dopo partita è una decisione un po presa di distinto però sono ancora fermamente convinto della decisione appunto che ho preso parole secche parole dure quelle di mister lisio sicuramente rammaricato per come è finita la sua storia d'amore con il presidente cassese però la gara è quasi agli inizi diamo subito lettura delle formazioni con la roma che si schiera con passarello cassese giampaolo cassese aniello manzi simonelli buglione è piccolo mentre il tottenham invece ha portato con sé quest'oggi napolitano masi viscovo gianluca cassese annunziata e di carluccio giorgio numerosi anche i cambiamenti nella roma assente tortura il portiere titolare per impegni personali c'è passarello la prima con la roma mentre il tottenham è abbastanza rimaneggiato c'è addirittura carluccio in porta sì la la mossa di carluccio in porta è veramente l'incognita di questo match mi aspetto da un giocatore bravo molto con i piedi mi aspetto una buona partita in quanto abbastanza raccomandato dagli addetti ai lavori nel ruolo di portiere quindi nella roma invece il nuovo acquisto non lo conosco e sarà sicuramente un acquisto del padron cassese quindi un acquisto di esperienza di qualità è tutto pronto per dare inizio alle ostilità vediamo la roma che si è schierata in campo con passarello manzi giampaolo cassese nello cassese e fabbio buglione titolarissimi quest'oggi della roma mentre poi buoni contati per il tottenham un solo cambio con di carluccio come abbiamo visto in porta poi cassese enunziata e viscovo e poi luigi napolitano il capitano gara che subito cominciando con un pressing alto da parte dei bianchi attenzione al break offensivo di viscovo recupera tutto nello cassese è quasi messo all'angolo si rivolge ai piedi buoni di manzi che poi è ancora duetta col numero dieci ferma tutto il suo omonimo del tottenham cassese allarga tutto sulla destra non trova assistenza però il numero quattro del tottenham si ricomincia con una rimessa laterale per la roma ritmi subito alti giorgio si subito si e subito si vede che la partita è pimpante i ritmi sono abbastanza alti nonostante il freddo le temperature non sono amiche da notare isidoro che in campo ci sono ben tre cassese omonimie nel rettangolo di gioco tre giocatori su dieci cassese mentre è il tottenham che fa suo il giro palla cassese si rivolge a napolitano attenzione una carambola quasi mette in difficoltà la retroguardia della roma attento nello cassese un altro cassese poi buione cerca l'uno due proprio con il suo numero dieci di carluccio volo plastico il suo ad evitare l'uno zero della roma si destreggia bene poi viscovo cerca proprio punti di riferimento nel suo estremo difensore ancora cassese cerca idee si rivolge ancora una volta al suo numero otto che manda a voto gioco stesse con una finta poi in unziata ancora cassese sull'alto di sinistra ha un po di spazio avanza cerca con le finte di mettere in difficoltà la retroguardia della roma passarello con i piedi mette in calcio d'angolo poi sicuro ancora una volta passarello sì una partita ripeto molto avvincente in questo in questo inizio mi auguro che le due squadre mantengano un po questi ritmi fino alla fine perché sarà veramente una bella partita attenzione cui buione nel frattempo nel frattempo buona l'intesa manzi buione che in velocità prova a mettere il piazzato nell'angolino alla destra di di carluccio solidità difensiva da trovare da ambo le parti visto l'inedito schieramento da entrambi i fronti poi salta puglione qui e mette fuori sulla destra per il tottenham tre giocatori sul stesso lato cerca di andare via viscovo ancora viscovo cerca poi la conclusione col mancino guadagna una rimessa con le mani di carluccio cerca addirittura la conclusione da dietro la metà campo belle etoria però la sua conclusione ancora una volta ci la roma riesce a riorganizzarsi e a ripartire ancora con manzi palla al piede ancora manzi cassese cerca l'imbucata per suo fratello nello non ci riesce però copre tutto viscovo poi in unziata lungo l'auto di destra viscovo cassese ancora di carluccio viscovo ottima la finta su nello cassese riesce ad andare via può liberare il mancino serve napolitano che ancora serve poi a sua volta annunziata viene anticipato però al posto giusto al momento giusto da puglione buona l'intesa dei ragazzi maglia bianca con di carluccio che potrebbe essere il punto forte in quanto bravo con i piedi può favorire la mano le manovre offensive dei del della squadra inglese da un visto il tottenham qualche partita fa con il milan due innessi importanti con il suo numero 8 attenzione scusate nel frattempo è l'intesa e qui è clamoroso cosa si divora gianmarco manzi ottima l'intesa ancora una volta sulle fasce questa volta con nello cassese manca l'appuntamento però con il bersaglio grosso è sfortunato qui gianmarco poteva fare sicuramente di più è arrivato un po con un passo sbagliato una buona occasione buona l'intesa anche dei romanisti dicevamo prima di viscovo bellissimo il numero che ha fatto prima sull'auto di destra i danni del povero nello cassese è un innesto di qualità insieme a di carluccio che purtroppo oggi è costretto tra i pali e non può far valere le sue doti tecniche sì umberto lo conosco da tempo è un ragazzo un ottimo elemento un bravissimo ragazzo tecnicamente col suo sinistro può fare veramente cose eccezionali ne abbiamo visto poc'anzi leggesta è anche un grande tiratore però in questo in questo momento è costretto a partire da dietro quindi non possiamo ammirare al meglio le sue giocate e nel frattempo tiro al fulmicotone di fabio buione con il presidente cassese che sul cerchio di centrocampo disegna importante la fantasia del presidente cassese nel frattempo la conclusione di manzi ancora da fuori area di carluccio attento scende bene a terra con il corpo e mette in out ancora calcio d'angolo palla che arriva buione che di punta parte in vantaggio i suoi roma 1 tottenham 0 è bravissimo qui fabio nell'inserimento lo conosciamo lo apprezziamo per questa sua dote però difesa del tottenham un po da rivedere nelle marcature in quanto fabio era troppo libero e la roma trova il vantaggio nei primi minuti di gioco grazie a uno dei suoi uomini simbolo fabio buione che oggi sembra veramente in palla pilastro a tutto campo dei giallorossi e qui nel frattempo napolitano va subito vicino alla replica a cercare l'uno a uno gara che viaggia su ritmi altissimi entrambe le formazioni cercano la vittoria qui in bucata veloce di manzi che è costretto poi ad uscire attenzione a viscovo può liberare il sinistro ottimo l'intervento in difesa di fabio buione ancora cassese di carluccio cerca la verticalizzazione veloce non trova viscovo e si ricomincia ancora dai saggipiti di fabio buione sorprende comunque l'esclusione dal primo minuto di masi che da solidità difensiva lì dietro si effettivamente una scelta un po da rivedere però sicuramente i ragazzi in campo sanno quello che fanno vediamo un po non siata come se la cava poi nell'occorrenza ma si è sicuramente può dare manforte alle manovre nel frattempo inventa annunziata scusa giorgio se ti interrompo anzi la palla comunque uscita fuori concludi il tuo pensiero si dicevo poteva può dare sicuramente una mano al pacchetto difensivo che non mi sembra ancora ben allineato nel frattempo già luca cassese cerca di andare via vince addirittura un rimpallo poi con un gioco di prestigio riesce a tenere in campo il pallone servire viscovo che danza sulla sfera riesce a resistere l'avanzata di due giocatori della roma poi a il tempo del break offensivo la roma però saggiamente nello cassese si rifugia tra i piedi di passarello e ha il tempo di servire fabio buione che può servire ottimamente nello cassese debole il suo tiro però finisce tra le baraccia di di carluccio che subito serve viscovo viscovo ancora cerca l'imbucata per gialluca cassese passarello provvidenziale attenzione poi al manzi che tergiversa sull'auto e ancora un tiro napolitano però finisce la sua conclusione fuori calcio d'angolo già battuto gara ad alta velocità e manzi qui commette fallo netto il suo ritardo sul pallone ai danni di viscovo è lo stesso numero 8 a posizionarsi sulla sfera attenzione a viscovo alta di pochissimo la sua conclusione passarello sembrava essere sulla terra vittoria però ancora annunziata ha spazio per il tiro lo prova ampiamente fuori tottenham che più vivaci in queste ultime battute di gioco giorgio si tottenham ha necessità di alzare il proprio varicentro troppo bassi finora il la roma vita facile devono buttarsi un po in avanti e cercare la e ancora il tottenham che avanza con cassese viscovo indietreggia ammanzi su di sé altro fallo il secondo per la formazione giallo rossa punizione battuta da annunziata ancora viscovo che va via in velocità tenta il tiro ribatte cassese attenzione quasi si incartano buione e giampolo cassese c'è il fallo però i danni della roma e anche il tottenham segna riferto il suo primo fallo e nel frattempo la prima sostituzione esce giampolo cassese entra francesco simonelli offensivamente cambia ben poco cassese ha giocato principalmente da pivote cassese scusate mentre simonelli lo è di natura dunque vediamo come cambierà la dinamica di gioco per la roma mentre ottimo l'intercetto di fabio buione che riparte palla al piede avvicino simonelli può provare il mancino ribattuta la sua conclusione un simonelli frizzantino in questo avvio mi aspetto di vedere almeno una rete per confermare il suo buon il suo buon periodo nel frattempo il tottenham che cerca il gol del paleggio viscovo tenta un numero non si fa bindolare questa volta nello cassese ancora di carluccio la palla esce fuori cassese batte subito e serve buione che tende il tiro ottimo di carluccio ancora una giocata sull'out per il tottenham che sfrutta tutta l'ampiezza del campo viscovo raddoppiato buione non cede alle sue finte manzi che controlla a vista gialluca cassese si rivolge addirittura di carluccio ancora viscovo alto il pressing di buione sfida tra i due uomini simbolo in queste prime fasi del match ancora di carluccio ottima la verticalizzazione verso nunziata che tenta il pallonetto libera tutto manzi la palla non tocca l'alto della rete del maracana nel frattempo cerca l'invenzione simonelli ai colpi ha tentato comunque il tiro poteva trovare il gol di serata ed i carluccio rimette in gioco con le mani è entrato anche masi nel frattempo paga per il momento luigi napolitano il capitano con questo innesto sicuramente il tottenham acquisisce maggior solidità difensiva giorgio si vediamo un po che riuscirà a combinare filippo maria sicuramente un grande calciatore ci aspettiamo grandi giocate nel frattempo qui quasi disastro del tottenham ci crede simonelli cerca di servire con difficoltà nello cassese attenzione sbaglia l'ultimo stop però il numero 8 dei giallorossi che è entrato bene in partita sta ancora trovando però le giuste misure come è giusto che sia per chi subentra dalla panchina nel frattempo efficace il suo pressing forse fallo qui ai danni di di carluccio quattro secondi comunque scaduti il possesso era obiettivamente dei bianconeri nel frattempo vivaci proteste vediamo cosa succede attenzione ai nervi non devo saltare perché comunque qui al centro sportivo maragana gli organizzatori del trofeo jack ci tengono che sia tutto quanto segnato nel segno della solidità della solidarietà chiedo scusa sportiva ancora alle proteste del tottenham il tiro di carluccio sventa il pericolo buione cerca di andare via tenta un numero poi finisce col commetter fallo punizione per il tottenham gara che si sta incattivando a sorpresa giorgio no lo direi incattivando si sono alzati i ritmi la posta è alta la si devono si devono pur scaldare i ragazzi quindi ci stanno mettendo agonismo semplicemente agonismo l'agonismo che fa bene a queste partite fa bene al calcio viscovo in possesso della palla come al solito tutte le azioni pericolose nascono dai suoi piedi Gianmarco Manzi cerca di chiudere l'avanzata di Pippo Masi ci riesce ottimamente lo manda fuori i giri si ricomincia dai sapienti piedi di Nello Cassese che allarga tutto sulla sinistra attenzione a Di Carluccio qui troppo forse sicuro dei suoi mezzi tecnici dei suoi piedi stava per quasi commettere un'ingenuità è ancora Cassese che inventa Masi stop complicato da parte sua ha trovato anzi ha cercato una finezza di troppo lì dove magari serviva maggior concretezza va a dare meno i fronzoli e si ricomincia ancora dai guantoni di Di Carluccio Masi è in ritardo qui Gianluca Cassese rimessa per la Roma alza la testa a Buglione tenta addirittura il tiro direttamente tra le braccia di Di Carluccio Viscovo va via Cassese attenzione 3 contro 2 ancora un tiro di Masi e superbo Passariello Buglione attenzione alla verticalizzazione trova ottimamente Nello Cassese ancora Nello fermato però da Giuseppe Nunziata rimessa già battuta Buglione cerca l'imbucata verso Nello Cassese la palla è troppo indietreggiata quella gestita dal numero 2 della Roma qui ottima invece la diagonale difensiva di Nello Cassese ancora Buglione in possesso della sfera Simonelli gestisce bene questo pallone allarga verso Nello Cassese che rimane però lì subisce fallo punizione per la Roma sulla palla va Simonelli su questa punizione vediamo se proverà la battuta a rete col suo mancino ottima la potenza minore la precisione palla che sfira a lato della destra della porta di Carluccio eh sì Francesco ha voluto tirare questa punizione ci ha provato dimostra ciò dimostra la sua voglia di far bene in questa partita da quella mattonella forse meglio un destro probabilmente sì ma giusto così e nel frattempo lotta come un leone Buglione su questa sfera conquista un'importante rimessa laterale allarga tutto verso Manzi nel frattempo due contro uno ancora un ottimo chiusore di Buglione monumentale in questo primo tempo segna corre lotta fa tutto quanto lui nella Roma eh sì è l'uomo squadra Fabio Buglione in questo jack sta dimostrando veramente una completezza veramente forte lo sta dimostrando anche stasera nel frattempo su questo lotta come un leone su questo pallone Simonelli poi Nello Cassese trova un rimpallo ricomincia ancora la Roma Simonelli tenta ancora il tiro però è sfortunato colpisce Gianmarco Manzi ancora Annunziata che si rivolge a Di Carluccio poi Viscovo ancora spazio per il suo sinistro raddoppio per Annunziata devia Buglione c'è il pareggio del Tottenham sfortunata qui la Roma che però era colpevolmente scoperta sull'auto di destra sbagliata qui la diagonale di Nello Cassese che però era uscito in raddoppio un errore di posizionamento che è costato caro la Roma e il Tottenham riacciuffa il pareggio sì il Tottenham cinico la prima grande occasione diciamo subito sfruttata gran gol di Gianluca Cassese un po' come il primo gol di Totti nel derby bella coordinazione su errore drammatico direi della difesa della Roma attenzione a Gianpaolo Cassese che ritorna sul terreno di gioco al posto di un voglioso Simonelli ma poco concreto nel frattempo incrocio dei pali di Nello Cassese che occasione sfortunatissimo Nello ha fatto c'è stata una palla sporca lì bravo Nello a riconquistare questa palla bellissimo il suo destro sfortunatissimo Fabio Buione il tiro abbondantemente a lato colpisce troppo di collo e la palla addirittura finisce in rimessa laterale ma si si rivolge ancora a Viscovo cerca sull'out Napolitano ci riesce palla che esce ancora di un non nulla ma la Roma sta soffrendo tantissimo Giorgio si un po' troppo sbilanciata dovrebbero un attimo fare un check up delle posizioni in campo troppa confusione forse un time out servirebbe a Gelo Rossi magari rinunciare a uno degli uomini offensivi per cercare conforto nella solidità difensiva di Piccolo nel frattempo gara che diventa cattiva nel frattempo ammonito Simonelli che sente tanto la gara e viene addirittura ammonito dalla banchina Giorgio che cosa è successo ci avvolgiamo il nastro c'è stato un intervento abbastanza ruvido su Viscovo sicuramente le bollicine in questa partita le ha fatte scoppiare tutte lui c'è stato questo intervento sulla linea poco oltre la linea del centrocampo intervento ruvido il fallocista un po' immotivate le proteste nel frattempo ottimo lo schema tra Viscovo e Masi che però pecca d'altruismo aveva cercato la corsa di Napolitano che però era colpevolmente in ritardo sul palo di destra difeso dalla porta da Passarello e la Roma si salva anche in questa occasione nel frattempo ma anzi la palla rimane lì ed è miracoloso l'intervento in scivolata di Masi gara vivissima non inganni l'uno a uno temporaneo che sta regolando per ora la partita Giorgio si partita tesa ripeto la posta in gioco è molto alta i tre punti questi tre punti sono d'oro per entrambe le squadre quindi vogliono a tutti i costi guadagnare la gloria in questa partita partita giustamente come dici tu molto emozionante molto combattuta l'uno a uno è un po' un risultato falso però il pareggio il segno X è abbastanza giusto le due squadre si sono un po' equivalse in campo nel frattempo è la Roma che cerca di trovare il vantaggio punizione al limite guadagnata da Nello Cassese si pareggia anche il numero dei falli 4 a 4 vediamo chi si posizionerà sul pallone per battere questa interessante punizione ovviamente tutta la squadra indietreggia c'è Fabio Buione sul pallone vediamo quale sarà la soluzione optata dal pupillo di Patron Cassese ancora Buione forse una deviazione qualcuno l'avrà toccata con la schiena in barriera è così calcio d'angolo sulla bandierina c'è già Nello Cassese vediamo se gli schemi su calcio d'angolo risulteranno ancora decisivi per la Roma palla in mezzo nessuno devia cambio nella Roma che è ancora più attrazione anteriore attenzione esce già Marco Manzi che era il centrale di difesa vediamo chi si posizionerà su quella zona di campo sono quattro giocatori offensivi anche se Buione sa fare il centrale ma sta giocando sull'out o di destra o di sinistra in questa partita Giorgio guardi in questo momento credo che Fabio attenzione è un buono il recupero qui di Fabio che sta giocando apparentemente centrale ma il resto della squadra è sicuramente molto offensiva con Simonelli e i due fratelli Cassese al tempo palla preda di nessuno recupera indovinate chi Fabio Buglione riesce a conquistare metri che però sono nulli deve desistere dalle sue intenzioni offensive ancora Simonelli che perde una palla c'è fallo però di Viscovo gomito alto da parte sua ed è il quinto fallo e le proteste valgono addirittura l'ammunizione per il numero 8 blanco l'arbitro fa bene ad ammunire i ragazzi queste proteste sono sono un po' troppo esagerate quando l'arbitro fischia e quella è la legge quindi è inutile poi arrabbiarsi più di tanto ancora il mancino di Simonelli a cercare gloria vediamo se inquadra la porta ottima la risposta di Di Carluccio un tiro abbastanza preciso però non abbastanza forte Francesco dimostra ancora una volta di esserci Di Carluccio cerca riferimento in Masi Viscovo perde metri ma la palla tra i suoi piedi è sempre pericolosa questa volta però non lo è verticalizzazione che finisce direttamente tra i guantoni di Passariello Cassese palla verso Bugione poi Simonelli ottimo il suo tocco di prima verso Nello Giampaolo poi fa correre proprio il numero 8 del della formazione capitolina nel frattempo è rimasto a terra Simonelli ferma tutto l'arbitro si ricomincerà ancora una volta adegu Antonini Di Carluccio che rimette lungo attenzione incredibile defalianza difensiva della Roma è ancora monumentale Bugione 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 è sicuramente il migliore in campo in questo primo tempo ma ancora amnesia difensiva della Roma ha bisogno un po' di organizzarsi la squadra di Patron Cassese nel frattempo a bordo campo i gufi giallorossi abbondano arrivano i fratelli Cassese definiti più volte a più riprese giù scusate i fratelli Capano i fratelli Cassese purtroppo sono nel rettangolo di gioco i fratelli Capano ex componenti della Roma che però a loro detta sono venuti a vedere gli amici nessun rancore nonostante le esclusioni magari dopo li avremo i nostri microfoni nel frattempo ancora il Tottenham con veloci scambi cerca di far valere le proprie intenzioni offensive qui invece una serie di scambi non premia la Roma e ancora il Tottenham in avanti Viscovo ancora Viscovo che cerca gloria col mancino rimpalla ancora una volta la sfera su Buglione l'arbitro dice che non c'è più tempo per questa prima frazione uno a uno tra le due squadre gara vivacissima una delle gare più belle che finora abbiamo commentato Giorgio veramente sono d'accordissimo con te Isidoro una partita veramente molto molto bella i ragazzi se la se la stanno giocando a viso aperto ciò ciò garantisce uno spettacolo veramente con i fiocchi ai punti probabilmente la Roma avrebbe meritato di passare in vantaggio però il Tottenham molto cinico compatto agisce quando vede la possibilità quando vede quel buco nella retroguardia romanista è tutto per questa prima frazione di gioco ricordiamo il risultato parziale Roma 1 Tottenham 1 reti di Buglione e poi ha risposto il Tottenham con Gianluca Cassese noi ci fermiamo un attimo per un piccolo break pubblicitario non cambiate canale restate con noi per Roma Tottenham è la magia del trofeo Jack che è la magia Grazie a tutti.